Ciao a tutti appassionati di rarmi e fitness, quello che andremo a vedere oggi è un circuito per migliorarci nella corsa. Iniziate il vostro allenamento con 45 secondi di combinazione push up e doppia torsione laterale per potenziare obliquo, braccia, addominali e core training. Mi raccomando di mantenere corretta la tecnica fino alla fine dei 45 secondi. Il secondo esercizio sarà un grip cycling fatto sulle parallele, ovviamente c'è una velocissima attivazione della parte del tronco per stabilizzarci, ma il lavoro più importante lo fanno gli addominali. Chiudete la serie in accelerazione. Terzo esercizio, un crunch al libretto fatto con palla medica. non toccate la testa a terra, mantenete in costante tensione gli addominali. il quarto per ordine sarà la corda nautica da fare con oscillazioni alternate, gambe leggermente e a nome e braccia in costante tensione. Andiamo a chiudere il circuito sulle parallele effettuando adesso le versi tap, quindi il più possibile in alto le gambe e le ginocchia vicine al petto. effettuate quindi tre o quattro giri recuperando dopo l'ultimo esercizio un minuto. Se il video vi è piaciuto condividetelo e iscrivetevi al canale. Grazie mille da Fabrizio Ferri e WKPATF Interstit. Grazie mille da Fabrizio Ferri.